L'obesità è una patologia molto diffusa tra la popolazione ed è purtroppo in costante aumento e causa di altre gravi malattie, a cominciare da quelle cardiache passando per il diabete che mettono a rischio la vita del paziente. A Campobasso, nella Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Unimol, si è svolto un affollato incontro sul tema per affrontare gli aspetti della malattia e le relative cure. Già da anni il mondo scientifico si sta occupando di quella che è una vera e propria epidemia la cosiddetta Globacity, in quanto il problema è diffuso a livello mondiale, a livello locale, nazionale e anche regionale, in quanto la percentuale di obesi, patologici o di persone in sovrappeso è molto elevata raggiungendo nella nostra regione anche tassi del 20%. Quindi stiamo attivando tutte le nostre energie, le nostre capacità e tecnologie per attivare un centro di trattamento dell'obesità e del metabolismo con l'implementazione di una chirurgia bariatrica presso la nostra chirurgia generale che possa fare da cardine alla terapia dell'obesità. Quindi si può parlare di una vera e propria patologia? Assolutamente sì, l'obesità è una malattia, l'obesità è una malattia che uccide senza voler in questo momento demonizzare questo tipo di pazienti, ma è un problema socio-economico importante. Si stima nel 2017 un costo sociale per l'obesità di 5 miliardi di euro nel Molise e nel 2017 sono stati calcolati 28 milioni di spesa sociale, ma soprattutto questa patologia noi dobbiamo affrontarla, dare un'offerta migliore possibile a questi pazienti. L'intervento con ciò che si può fare per quanto riguarda il trattamento dell'obesità al di là delle cure mediche è il trattamento della chirurgia dell'obesità. La chirurgia dell'obesità è il miglior trattamento che si può offrire per un paziente obeso perché riduce drasticamente il peso e soprattutto le complicanze legate all'obesità, quali per esempio il diabete, la sindrome delle apnee notturne che sono problematiche molto drammatiche. Un appuntamento importante su un tema importante? Un tema importantissimo che è quello dell'obesità e della chirurgia dell'obesità. Per la prima volta la SICOB è qui in Molise grazie al dottor Bondonno e all'università che ci ha aperto le porte e dove abbiamo tantissimi partecipanti, in particolare questo evento è dedicato ai medici di medicina generale. C'è stata anche la risposta, la sala è affollata? Sì, la sala è grimita e in realtà non ci aspettavamo tante persone ma siamo ovviamente contentissimi e un po' orgogliosi di questo risultato.